Secondo te come fanno i miei membri o quelli che mi seguono a vincere sistematicamente a questo gioco? Perché c'è chi ha capito, chi ha le formule e le ha ben potenziali con la propria mente e chi invece ha le formule non le ha capite e si lamenta e chi invece non crede. Abbiamo tre livelli di persone. Tu in quale categoria ti reputi di stare? Seguimi e vedrai tutti i scontri vincenti di chi sta nel primo livello, di chi ha capito.